Il detenuto italiano accanto a Bombello distrugge la propria cella e poi la incende, evacuata la sezione, nessun ferito fortunatamente. Ubriaco percorre in contromano 10 km sul raccordo dell'A21 tra Flero e Castenedolo, per fortuna l'hanno fermato in tempo. Tre squadre della provincia accettano il doppio tour in entrata e uscita per risolvere il problema ai trasporti, ma non tutto è risolto. Giacomo Olzer, ex Milan, si presenta alla città e ai tifosi, grato al Milan e di più al Brescia per averlo portato nei grandi. Care amiche, da oggi si può, stirare al massimo e senza pieghe finalmente è possibile. Termostir, creata per realizzare il vostro sogno. A casa o in stireria, la vostra garanzia. Buonasera anche dal telegiornale, c'è la cronaca in primo piano, come avete sentito dai titoli, con un fatto che è accaduto ancora una volta dentro Canton Mombello, ancora una volta un problema di sicurezza. Questa volta è successo che un detenuto italiano ha dato in escandescenza, ha distrutto tutto quello che poteva distruggere all'interno della propria cella e poi gli ha dato fuoco. Emergenza, intervento dei vigili del fuoco, sentiamo com'è andata. Ha distrutto la sua cella e poi l'ha data alle fiamme. È necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia a Canton Mombello, chiamati per un incendio divampato in una cella della sezione primo piano sud. Un detenuto italiano, nella tarda mattinata di mercoledì, è andato in escandescenza e prima ha distrutto tutto quello che era possibile distruggere all'interno della sua cella e poi le ha dato fuoco. Immediato l'allarme e quindi la richiesta di intervento ai vigili del fuoco. Stando alle notizie che giungono dalla casa circondariale cittadina, non si segnalano feriti ma tutti i detenuti della sezione sono stati evacuati a causa dell'intenso fumo che ha reso l'aria irrespirabile in quella porzione della struttura. Il SINAP, sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, per voce del suo segretario generale aggiunto Antonio Fellone, torna a denunciare la situazione di pericolo che ogni giorno gli agenti della Polizia Penitenziaria si trovano a dover affrontare e che mette a serio rischio la loro incolumità e di conseguenza anche quella dei detenuti del carcere cittadino. Ancora la cronaca con un evidente veramente incredibile, un uomo che ha percorso contromano una decina di chilometri sul raccordo dell'A21 prima che la Polizia riuscisse a fermarlo. La Polizia stradale parla apertamente di tragedia sfiorata dopo che un 37enne in piena notte ha ben deciso di invocare l'autostrada A21 contromano. Fortunatamente, grazie anche alla prontezza di riflessi degli automobilisti che l'hanno incrociato, non si sono verificati incidenti. A dare l'allarme sono proprio stati questi automobilisti che, fatto più unico che raro, mentre percorrevano il raccordo dell'A21 fra Flero e Castenedolo, si sono visti venire incontro questo veicolo sulla corsia di sorpasso. Protagonista della pericolosa manovra, un conducente 37enne di origine indiana che è risultato ubriaco con un tasso di alcol nel sangue di oltre quattro volte quello consentito. Erano circa le due di notte e anche questo è stato un fattore, visto che a quell'ora il tratto autostradale non era particolarmente trafficato. L'uomo, come detto in preda ai fumi dell'alcol, è riuscito a percorrere ben 10 km in senso contrario, prima di essere fermato dagli agenti della Polizia stradale e del personale dell'autostrada. Non d'uomo, dopo il fermo, l'uomo ha deciso di provare ad allontanarsi a piedi, abbandonando la sua auto proprio nel mezzo dell'arteria autostradale, ma è stato subito preso. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza, una contravvenzione per guida a contromano, fermo del veicolo e revoca della patente. Tra poco le altre notizie di Coronaca, ora invece apriamo la pagina dedicata al Covid-19. Andiamo sul nostro sito internet per vedere i dati diffusi dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia. 120 nuovi casi di Covid-19 a Brescia, non sono pochi, 655 in Lombardia, nel dettaglio sono oltre 50.000 i tamponi processati in queste ultime 24 ore, 50.400 per l'esattezza, ma vedete il tasso di contagiosità è decisamente basso, 1,2%, 655, dicevamo sono i nuovi positivi in tutta la Regione, Milano città e provincia, totalizzano 212 nuovi casi e poi subito c'è Brescia con 120, ben distanziate invece le altre province. Una persona in più nel reparto di terapia intensiva, sono 55 in tutta la Regione, due in più nei reparti di area medica, 386. Purtroppo registriamo sei morti per Covid-19 nella Regione, non c'è nessuno al momento segnalato invece per quanto riguarda la nostra provincia. Strettamente collegato c'è il discorso Green Pass, ma c'è il discorso ovviamente delle scuole e in questo caso il trasporto. Ricorderete che nei giorni scorsi la TPL, l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, aveva un po' strigliato le scuole dicendo non si fa così, non avete capito. Se non applichiate il doppio turno non ci sarà possibilità di tornare in presenza perché non ci sarà possibilità per i trasporti di esaudire quelle che sono le richieste. Ora tre scuole sono quindi venute più miti consigli, quindi hanno accettato il doppio turno in entrata e in uscita, ma non tutto però effettivamente è risolto. Sentiamo. Sono ore frenetiche di preparazione in vista del ritorno a scuola in presenza, distante ormai, una manciata di giorni. Lunedì si inizia, i nodi da sciogliere non mancano tanto a livello nazionale quanto locale, dove la problematica principale sembra essere rappresentata dal trasporto pubblico. Una decina di giorni fa l'Agenzia TPL aveva lanciato l'allarme perché in molte scuole della provincia avevano rifiutato di adottare l'ingresso scaglionato in due turni. Così è impossibile organizzare i trasporti, avevano fatto sapere dall'Agenzia, e a stretto giro di posta era sceso in campo il prefetto Tiglio Visconti per trovare una mediazione. Questa mediazione, un'accorata richiesta di collaborazione, aveva però lasciato indifferenti tre istituti superiori del Garda, il Fermi di Salò, il Vazzoli di Desenzano e il Cerebotani di Lonato. Allora è tornata in campo la prefettura, organizzando tre incontri con i dirigenti degli istituti e le altre forse in campo. I tavoli si sono tenuti nelle ultime ore, stando a quanto comunicato, la quadra è stata trovata. La prefettura parla infatti di grandissima disponibilità al superamento, con modalità differenti, degli ostacoli presenti, garantendo già dalle prossime settimane il doppio turno in entrata e in uscita. Sono molto soddisfatto dell'esito degli incontri attraverso cui è stato possibile porre in essere un ulteriore importantissimo tassello per l'inizio del nuovo anno scolastico, dichiarato poi Visconti. È stato recepito dai dirigenti l'obiettivo della necessaria omogeneità dei vari sistemi di servizi pubblici finalizzati al benessere del cittadino, quale obiettivo primario e soprattutto di come anche un singolo rifiuto possa mettere in crisi il sistema dei trasporti in una tratta delicata come quella gardesana. Veniamo alle altre notizie di cronaca con l'arresto di un minorenne per furto. I fatti risalgono lo scorso mese di luglio, quando una donna era stata minacciata e rapinata nei pressi della Vale del Garza. Oggi i carabinieri di nave hanno arrestato il minorenne che all'epoca si era macchiato di questo reato. Stando alla testimonianza della vittima, il 17enne l'avrebbe avvicinata mentre si trovava in giro con il suo monopattino elettrico. Dopo averla fermata, l'avrebbe minacciata con un taser per farsi consegnare il mezzo e così si è concretizzato il furto. I militari ricordano che stando alla legge il taser è considerato a tutti gli effetti come un'arma impropria. Nonostante la giovane età, il ragazzo è già noto alle forze dell'ordine per altri reati commessi in passato, che gli erano valsi anche con danni definitive. Questa volta, però, nulla gli ha evitato di varcare le porte del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano con l'accusa di rapina aggravata. Esattamente una settimana fa, sempre i carabinieri di una stazione della compagnia di Gardone-Valtrompia avevano arrestato altri due ragazzi minorenni. Ieri sera abbiamo avuto modo di raccontarvi solo che c'erano lunghe code in A4 a causa di un incidente nel quale era coinvolto anche un tir. Ora, il quadro ovviamente si è delineato poi con l'andare delle ore in serata, la notizia era sul nostro sito internet, però ve la raccontiamo anche nelle telegiornali. Due tir si sono scontrati e purtroppo uno dei due conducenti è morto. È stato estratto dalle lamiere contorte del mezzo pesante, ormai senza vita, uno dei conducenti del tir che poco dopo le 16 di martedì si è violentamente scontrato con un altro mezzo pesante. Lo schianto è avvenuto sull'autostrada A4 fra Desenzano del Garda e Sirmione per la precisione al chilometro 247. Immediato l'allarme al 112 che ha fatto coinvogliare sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Brescia e la polizia stradale. Per l'autista 36enne però non c'era già più nulla da fare. Meno gravi le condizioni delle altre due persone coinvolte. Una è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Desenzano. I vigili del fuoco sono anche dovuti intervenire con un autogru. L'autostrada nella corsia in direzione Venezia è stata completamente chiusa al traffico per diverse ore con code che hanno raggiunto i 15 chilometri. Problematiche si sono registrate anche nella viabilità esterna parallela alla A4. Voltiamo pagina e apriamo invece un discorso che interesserà poi tutti i cittadini, non solamente i bresciani ma tutti gli italiani, perché ha preso il via il Cloud Italia, il piano per digitalizzare tutti i servizi pubblici. Una vera innovazione decisa dal governo italiano ma non priva di problemi e ostacoli. Il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ha svelato la Strategia Cloud Italia. L'obiettivo del piano è l'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione e l'adozione del modello Cloud Computing per i servizi pubblici. Per realizzare il piano il governo utilizzerà 6,7 miliardi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La strategia prevede la creazione di diversi cloud qualificati e di un polo strategico nazionale. A partire dalla fine del 2022 dovrà iniziare la migrazione dell'APA verso il polo strategico, che dovrà concludersi entro la fine del 2025. I piani di migrazione saranno definiti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Entro la fine del 2021 sarà pubblicato il bando di gara per la realizzazione del polo strategico nazionale. È una casa moderna per i dati degli italiani, lo definirei così, una casa moderna, flessibile, con stanze diverse, ma tutte con lo stesso livello di sicurezza. Ultimo pagina parliamo di un'iniziativa, di una nuova iniziativa che riguarda la nostra città, una corsa molto particolare e difficile, non per tutti. Ci sarà la prima edizione domenica 19 settembre, è stata presentata a questo oggi relativa appunto al trial funivia Monte Maddalena. Praticamente una corsa che prevede in verticale, che prevede l'arrivo sul Monte Maddalena seguendo quella che era la vecchia funivia, lo stesso tracciato. Non è una gara per tutti, possiamo dirlo? Sì, ovviamente bisogna avere un minimo di allenamento per partecipare a una verticale, diciamo che è abbastanza fruibile dalle persone che si allenano. È impegnativa ma non è impossibile. Da verticale e dal dome già possiamo capire qualcosa, ma spiegaci un po' com'è la corsa. La corsa è praticamente tutta naturale, si chiama verticale perché è praticamente un percorso con 700 metri di dislivello su una distanza di 4,5 km. È l'ex percorso della funivia storica di Brescia. Quindi tutto in salita come era sotto la funivia? Praticamente è come farsi la funivia con le proprie gambe, è fantastico. Torniamo praticamente all'epoca dei very strongman. Comunque poi noi facciamo abbinata la spacca gambe che è il nostro trofeo di ginnastica dinamica militare. Bella Brescia, bella la Maddalena, vi aspettiamo tutti. Alla grande! Prima edizione è una corsa indubbiamente innovativa, è il caso di dire. CSI si è cimentato con qualcosa di molto particolare in questo caso. Sì, ci siamo cimentati in una cosa molto particolare, nuova per noi, nuova per la città di Brescia. Era un segno, come dicevo prima, di ripartenza proprio da un simbolo come la Maddalena che tutti i bresciani conoscono. Era un modo per dire Brescia la mola mai in un periodo difficile che abbiamo appena passato. Ci auguriamo di non rientrarci di nuovo, soprattutto per l'attività sportiva che secondo il nostro punto di vista è fondamentale per un'aggregazione a livello territoriale. Completiamo dicendo che le iscrizioni si possono ricevere fino al 12 di settembre. Ovviamente bisogna essere comunque attretti agonisti e avere il certificato medico proprio per attività agonistica. Breve pausa e poi parliamo ancora di sport. Dobbiamo raccontarvi la presentazione di Giacomo Olzer al Brescia, alla Germani, ma anche parlare di pallanuoto. Rivalente con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom & Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom & Jerry. Facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi. In via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Buona serata anche agli amici sportivi. Allora sì, parliamo subito di Brescia con la presentazione di Giacomo Olzer che si è presentato ai tifosi, alla stampa, alla città. L'ex Milan ha detto grazie al Milan, ma soprattutto grazie al Brescia perché mi ha portato tra i grandi. Sinceramente devo ringraziare Milan per questi sei anni, però ringrazio anche Brescia per questa grande occasione anche per mettermi in gioco in una nuova realtà e per appunto, siccome è la prima esperienza tra i grandi diciamo e ho l'opportunità di crescere sotto vari punti di vista e poi sul fatto del talento non spetta a me dirlo, devo dimostrarlo in campo e devono dirlo appunto i tifosi e le persone che guardano le partite. Io devo pensare a dare il massimo in campo e aiutare i compagni e appunto mettermi in gioco e crescere giorno dopo giorno perché mi ritengo giovane e appunto sono qua per crescere. Nel corso della mia breve carriera ho fatto più ruoli, da piccolo piccolo ho fatto la prima punta, dopo col passare dell'età ho fatto sia la mezzala che il trequartista dietro le due punte e giocando con due trequartisti per il ciò alla fine comunque vengo da una società in cui non era tanto ruolo a fare la differenza ma come occupavi gli spazi insieme agli altri compagni. Perciò ovunque venga messo l'importante appunto è avere personalità nel giocare e trovare la giusta posizione in campo anche rispetto a come si muovono i propri compagni. Parliamo di basket con la sconfitta della Germania, 90-86 contro Treviso, sentiamo. Si torna a giocare e si torna a farlo a Treviso, seconda partita per la Vallacanestro Brescia nel girone C di Supercoppa. Il teatro è rinnovatissimo a Palaverde, casa del roster di Menetti, corsaron nella partita di andata giocata al Pala Leonessa a 2A. Nel primo quarto Mitrulong e Casarin partono fortissimo, un duello che vede il canadese essere letale nei tagli in area e nelle penetrazioni, l'ex Venezia, mina vagante e costante problema coadiuvato dalle solite bombe di Sokolowski. Esattamente come le palle perse, un problema per entrambe le compagini che a metà dei primi dieci contano un totale di sette palloni buttati. Petrucelli letale con cinque recuperi e una gran difesa, 22-20 per i padroni di casa e prima sirena. Il secondo quarto resta molto combattuto. Brescia nei primi tre di gioco fatica ad attaccare, Moore in particolare con poco ritmo. Treviso invece continua con le sue medie da caporgiro da tre, già sei bombe a bersaglio. Della Valle chiude il primo tempo con un dodicesimo punto top scorer per la Leonessa, Petrucelli ne fa 11 che si aggiungono al lavoro enorme in difesa. Il secondo tempo si apre con gli ospiti in controllo a più 5 sulla squadra di Menetti. A 6.55 dalla terza sirena, Imbrò resta a terra dopo uno scontro di gioco con Petrucelli. Purtroppo serve la barella per il capitano dei padroni di casa, con evidenti problemi al gomito sinistro. Brescia resta concentrata sulla partita della Valle, il più caldo dei suoi. La Nutribullet però non molla ed almeno Otto ha la forza di pareggiare e sorpassare grazie al suo play Russell e ancora una volta Alex Vortolani. 63.59 a una sirena dalla fine. Ultimi dieci minuti entusiasmanti al palaverde. Achille e i compagni partono forte e allungano sul 23.7, il parziale avviato nella seconda metà del terzo quarto. La Quintana e Cobbins non ci stanno, tamponano gli avversari senza farli scappare 69-66. Nel finale Amedeo della Valle dice ancora la sua firmando un personalissimo parziale con l'intera squadra a sistemare anche la difesa alzandola e muovendola veloce. Le 18 palle perse però pesano molto, l'ultima di Cobbins sull'85-82 è un invito a nozze per Sims e compagni. Finisce 90-86 per Treviso che fa tre vittorie su tre partite. La Germani esce di scena con la seconda sconfitta di fila, ma i buoni segnali si sono visti ancora. C'è però da lavorare. Parliamo di pallanuoto ora invece con l'arrivo di Stefano Luongo nelle fila della N-Brescia. Adesso prima approcci con la squadra di base, comunque tanti giocatori ovviamente li conosci, quali sono le tue sensazioni, i tuoi obiettivi, i tuoi sogni qua? Sicuramente sensazioni positivissime, però me l'aspettavo perché conosco tanti giocatori molto bene, tanti un po' meno, ma li conosco comunque di fame, come il coach e come lo staff. Quindi un'accoglienza sicuramente ottima e non vedo l'ora di iniziare. Cosa ti ha spinto anche a scegliere Brescia e quanto soprattutto può essere complicato dover mantenere anche il titolo di campione d'Italia? Sicuramente sarà complicatissimo perché il Recco non starà a guardare, anzi si è rinforzato. Però quello che ha consentito al Brescia di battere l'anno scorso è lo stesso motivo che mi ha fatto scegliere di venire qua. Io avevo bisogno di nuovi stimoli e ho visto nel Brescia una società e un gruppo che fosse molto coeso e quindi questo mi ha fatto optare per venire qua. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che tutte le notizie continuano a aggiornarsi anche in serata sul nostro sito internet livebrecia.tv sul quale trovate la diretta del nostro canale 16197 delle digitali terrestre. Come sempre cliccando su questo banner potete iscrivervi al nostro canale Telegram, Livebrecia News oppure Livebrecia Sport e in questo caso le notizie arriveranno direttamente nel vostro account Telegram senza fare assolutamente nulla. Quindi sarete e rimarrete costantemente informati per tutto l'arco della giornata. Grazie per averci scelto, per aver scelto il nostro telegiornale anche stasera. Vi ricordo la sigla e poi il TG Economia con Italpress. Come sempre a tutti l'augurio di una buona serata domani.